Ultimo appuntamento con il ciclo di incontri, Antonio Di Ciaccia legge la Cannes alla biliria Underdogs di San Lorenzo organizzato dall'Istituto Freudiano. Stavolta Di Ciaccia ha letto e analizzato un interessante intervento rilasciato dalla Cannes a una radio francese risalente al 31 dicembre 1966, in cui l'analista omaggia l'opera di Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo Specchio. Dice la Cannes che l'opera di Carroll è l'illustrazione e la prova di tante verità, però queste verità non possono certo scaturire da quelle concezioni psicoanalitiche che hanno analizzato l'opera a partire da presunti disturbi psichici di Carroll, quindi come interpreta quest'opera la Cannes? Da cosa parte? Beh, diciamo, la Cannes lo centra sulla triade reale immaginario e simbolico. Praticamente mostra come l'opera di Lewis Carroll è un'articolazione che dall'immaginario viene messo in forma, qualcosa che rivela il simbolico e che punta verso un reale che è qualcosa di familiare e nello stesso tempo impossibile. Impossibile che diventa ad un tratto familiare, appunto. Ecco, cosa intende con questa affermazione la Cannes? Diciamo, praticamente la traduzione del Hummelibli di Freud è praticamente a che fare con quello che chiami il reale. L'opera di Lewis Carroll illustra come funziona la struttura. Secondo la Cannes, la corretta chiave per interpretare al meglio un'opera è leggere separatamente opera e autore. Alice, in particolare, non può ridursi ad una lettura che la identifichi come un sintomo di un disagio o di un presunto disturbo psichico di Carroll dovuto alla sua contestata passione per le ragazzine, ma semmai la lettura deve essere fatta in riferimento alla sua dimensione strutturale. È vero che, dopo Freud, si è pensato che la psicanalisi applicata fosse una ripresa, per esempio, dell'opera di un autore e interpretare la vita dell'autore attraverso la sua opera. Per la Cannes, un'opera ha una vita propria. L'autore ha la sua vita propria. Ecco allora che nella dialettica dall'opera all'autore, la Cannes illustra anche il filo conduttore e rivelatore dell'autentica genialità dello scrittore, che non è riducibile solo ad alcuni tratti soggettivi di Carroll, ma abbraccia tutta la sua soggettività. La Cannes indica che non è l'amore per le bambine che fa la grandezza di Lewis Carroll e, d'altra parte, nemmeno il fatto di essere un matematico, un logico che non era di grande statura. Ma l'utilizzo di congiurazioni è qualcosa che non è un raccordo soltanto, è qualcosa che permette di andare al di là del loro rapporto singolo. Quindi non è solo un raccordo, ma un qualcosa che uno permette all'altro di andare molto più in là di dove sarebbe arrivato. Poi il terzo elemento che la Cannes tiene presente e che generalmente non viene preso molto in considerazione è che era un uomo di una religiosità molto semplice, molto, lo chiama addirittura parrocchiale. Questi tre elementi sono come tre fili che sostengono la soggettività di Lewis Carroll. Diciamo che lei ha concluso l'intervento con una frase, un virgolettato di la Cannes, appunto una frase molto affascinante. Senza alcun disturbo si può produrre disagio e da questo stesso disagio scaturisce una gioia singolare. Quello che la Cannes intende con sintom? Sì, il sintomo è un disturbo. Però il lavoro che viene fatto, anche attraverso l'arte, la vita, il processo che ogni essere umano mette in movimento, ebbene arriva a purificare il sintomo da quello che fa sofferenza e ricavarne quello che fa la preziosità di quella singola persona. La cosa è importantissima nella misura che è lì che la persona ci si ritrova, solo che anche gli altri ci si ritrovano. Si ritrovano, possono ritrovarsi, ritrovarvisi come degli elementi che portano gioia, come lui dice.